Ecco le immagini, pronti via, c'è Drudi che torna in campo dopo aver saltato tre partite per infortunio tra l'altro l'ultima gara con il Cesena il 15 marzo e l'ultima vittoria in campionato della Pescara decisa questa gara proprio da un suo guizzo, c'è anche Pompetti che torna a metà campo insieme con Pontisso che è il mediano centrale di Risio invece a sinistra e poi Clemenza davanti insieme con Ferrari e Dursi nel Grosseto Bruzzo è la novità, segnerà il gol del momentaneo pareggio al posto di Piccoli nell'undici base scelto dal tecnico Genore Maurizzi, qui c'è un fallo di Mauceri su Zappella che avrà la peggio il palo colpito, timbrato da Capanni, tra l'altro Zappella guardate questo è un fallo clamoroso non visto dal direttore di gara Madonia di Palermo, il palo ripetiamo di Capanni classe 2000 arrivato nel mercato di gennaio, Zappella avrà la peggio, lussazione alla spalla sinistra sostituito da Cancellotti, il gol del Pescara, il grande lavoro di Ferrari che apre in modo intelligente e preciso per Dursi freddo, glaciale, occhi negli occhi col portiere Barosi e questo è il quinto gol in campionato per Eugenio Dursi classe 95, due giocatori di proprietà del Napoli confezionano questo gol, Dursi lo realizza e non segnava dal 20 febbraio trasferta di Efermo, tra l'altro Dursi era un po' l'oggetto misterioso fino a questo momento aveva fatto poco, aveva inciso pochissimo con Oteri che era un po' il suo mentore, è arrivato Zauri e oggi si è scatenato il migliore in campo, vedremo altre azioni, intanto il tentativo del numero 25 Artioli blocca Sorrentino, poi si accentra e si accende soprattutto Clemenza, il suo gran sinistro con la palla che lambisce il palo destro della porta difesa da Barosi perde palla malamente il Pescara, il pareggio della formazione ospite c'è il cross basso di Maunceri e il sinistro di giustezza un grandissimo gol dobbiamo dire, molto bello di Bruzzo classe 99, la novità dell'11 base schierato appunto scelto dal tecnico Genore Maurizzi ma chiaramente c'è stato un errore nella fase di impostazione del Pescara che invece di scaraventare il pallone in avanti ha perso palla e poi lo sviluppo dell'azione a sinistra col bel gol di Bruzzo che spaventa ancora il Pescara sugli sviluppi di un calcio d'angolo il suo colpo di testa che termina di un soffio a lato e poi Capanni viene servito il suo invito in mezzo bravo Sorrentino reattivo nella circostanza nei paraggi c'era Nocciolini poi siamo ancora nel primo tempo con Dursi palla in mezzo per l'invito delizioso per Ferrari tocco morbido dell'Italo-Argentino ha fatto tutto molto bene Dursi tra l'altro azione che era stata iniziata da Ferrari Ferrari va a concludere con un colpo di classe sedicesimo centro in questa stagione per la classe 95 da Dursi a Ferrari due tra i migliori in campo sicuramente il migliore è stato Eugenio Dursi sedicesimo gol in questo campionato ribadiamo per Franco Ferrari siamo al quarantottesimo nel secondo tempo naturalmente c'è il tentativo ancora di Artioli maglia numero 25 il Grosseto comincia molto bene in questa ripresa la Pescara sembra in difficoltà cinquantasettesimo pallone che viene recuperato ancora da Dursi tra le linee il suo destro deviato la palla termina di un soffio al lato alla sinistra della porta difesa da Barosi sessantaduesimo vediamo Arras è passato intanto al 4-2-3-1 4-4-2 che dir si voglia a Genore Maurizzi prova a sorprendere Sorrentino bravissimo colpo di Reni davvero strepitoso dell'estremo difensore Biancazzurro settantanovesimo avanza nella Pescara avanza soprattutto Pompetti nel frattempo è entrato Giambo si accentra Pompetti il suo sinistro la palla viene respinta dal classe 2000 il portiere del Grosseto Barosi e poi attenzione ottantottesimo la respinta di Sorrentino il colpo di testa il tap-in di Piccoli il salvataggio sulla linea di porta di Frascatore e come un gol fatto poi altro errore si ostacolano Derisio e Cernigoi entrato in corso d'opera il tentativo il palo colpito da Nocciolini che sfortuna per il Grosseto il palo e poi la palla che viene bloccata da Sorrentino e poi dovremmo avere un'altra azione nel finale proprio con Dursi sempre protagonista e invito dentro per Giambo palla indietro per Cernigoi che spreca l'impossibile l'avrebbe potuta chiudere ma finisce qui la partita siamo al novantatresimo Pescara batte Grosseto due a uno e sedicesimo successo in campionato il nono all'Adriatico Giovanni Cornacchia comincia riparte con una vittoria Luciano Zauri e poi che vi viu vieti 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 Grazie.